Una manifestazione internazionale che abbiamo fortemente voluto sia per l'evento sportivo in sé ma anche per promuovere il nostro territorio e la nostra regione. Sarà un evento con un monte premi importante e speriamo che ci saranno quindi atleti di caratura internazionale dal cinquantesimo in giù che potranno partecipare a questo evento che secondo noi è non solo importante dal punto di vista sportivo in sé ma anche di promozione del nostro territorio. Parliamo di questa manifestazione di Francavilla, un torneo internazionale di grande prestigio. Vogliamo dare qualche numero? Il strato è un torneo con 32 giocatori in qualificazione, 4 dei quali passeranno al tabellone principale dove ci saranno 28 ammessi più i 4 qualificati e tra i 28 ammessi ci saranno anche 4 wildcard, cioè 4 inviti speciali da parte dell'organizzazione. Vedremo all'opera quelli che potranno essere, perché no, anche i futuri campioni del nostro tennis. Sì, di fatti nel 2003 Rafa Nadal vinse il suo primo torneo professionistico a Barletta che appunto è uno dei tornei del circuito challenger italiano e tanti altri campioni in passato hanno iniziato la carriera qui Juan Carlos Ferrero, Sebastián Grosjean, tantissimi giocatori che sono arrivati nei primi 10 della classifica mondiale hanno mosso i primi passi nel tennis professionistico proprio qui in Italia. Come mai avete scelto Francavilla? Era forse il momento giusto per cui questa regione tornasse nel circuito principale. Grazie.